buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 24 luglio 2024 e prima di dare una lettura ai giornali passiamo come sempre attraverso l'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi ebbene oggi è una santa martire una santa martire che visse nel terzo secolo siamo nel pieno ecco vediamo qui la grafica nel pieno dell'impero romano quando ancora era in atto la persecuzione dei pagani contro i cristiani in modo particolare gli imperatori che vedevano di mal occhio questa nuova fede che metteva in discussione tanti valori per esempio l'impero romano fondato sullo schiavismo su certe pratiche che mal si conciliavano con la nuova fede allora che cosa è accaduto è accaduto che molti finirono negli anfiteatri e non è che i primi cristiani fossero felici di farsi sbranare dalle belve e molti infatti abbiurarono pur restando nel loro intimo nel loro cuore fedeli alla fede cristiana ebbene cristina era una ragazza molto tenera che divenne cristiana ma per questo fu punita dal padre fu punita atrocemente dal padre e quando questo morì fu denunciata al magistrato di turno e il magistrato di turno la condannò a morte ci furono diversi supplizi che subì e santa cristina ma non morì alla fine dopo aver superato tante tante prove fu trafitta dalle frecce e allora in questo caso prima fu così messa in una gabbia con dei serpenti gli fu tagliata la lingua insomma veramente gliene sono state fatte di tutti i colori alla fine è morta trafitta dalle frecce e le prime frecce che la colpirono la così la fecero morire e questa era una grazia che le aveva chiesto al padre eterno questa è santa cristina di bolsena terzo secolo e la sua salma riposa a bolsena ma alcune reliquie si trovano anche a roma nella chiesa di santa maria maggiore vediamo ora le previsioni del tempo la breve pioggia dell'altro giorno è solo un ricordo oggi sulle marche tempo stabile e assolato seppur con locale instabilità pomeridiana sempre sulle zone interne presso gli appennini le temperature massime si stanno elevando la minima era 22 la massima arriverà fino a 35 gradi i venti sulle coste spireranno con una tensione media da nord nord ovest nell'interno invece da nord nord est il mare leggermente mosso il sole è sorto alle 5 e 46 e tramonterà alle 20 e 41 queste le previsioni del tempo avremo un'altra giornata assolata assolata prettamente estiva con un caldo con un caldo piuttosto umido e allora apriamo i giornali questa mattina partendo dal resto del carlino e vediamo un ritorno che il giornale fa per quanto riguarda la seduta del consiglio comunale che si è svolta l'altra sera era la seconda seduta di questa tornata amministrativa è stata introdotta da due interrogazioni che riguardano la sanità la sanità è uno dei problemi più importanti che in questi giorni in questi periodi si dibatte non solo a Fano ma in tutte le marche ci sono diverse carenze da risolvere diverse problematiche in modo particolare quelle della mobilità passiva e soprattutto quella della lunga attesa per le prestazioni diagnostiche e delle visite a Fano servono 100 posti letto almeno lo ha dichiarato una autorità autorevole certo come quella del sindaco lucas e filippi rispondendo appunto alle interrogazioni che si sono presentate in consiglio comunale il sindaco rassicura sui 50 posti letto di ortopedia che verranno assegnati all'ospedale di Fano ma ha detto di più ha infatti rilanciato ci sono altri posti letto che sarebbero per il centro Alzheimer un centro residenziale e non più un centro diurno e anche a Carignano per la casa di cure che è una ditta privata attende per realizzare sappiamo benissimo quali sono i tempi di attesa per la realizzazione delle terme in cui è inclusa anche la casa di cura allora per quanto riguarda lo sviluppo del reparto di ortopedia tra Fano e Pesaro Sir Filippi sembra sposare la proposta del primario Luca Memè credo che sarebbe un'ottima soluzione ha detto concentrare la traumatologia al San Salvatore e la protesica al Santa Croce mentre gli altri 50 posti letto che il primo cittadino ha intenzione di chiedere alla regione Marche dovrebbero essere destinati ai privati penso ha dichiarato al centro Alzheimer che dovrebbe essere realizzato con un'iniziativa preordinata dalla Fondazione Carifano ma con la compartecipazione si augura almeno di altri sponsor privati e al progetto della clinica privata convenzionata di Carignano e poi anche la casa di cura di Don Tonucci e le altre esigenze che potrebbero emergere quindi non solo 50 posti letto il sindaco ha rilanciato oltre a rassicurare appunto tutti coloro che temevano che questi 50 posti letto andassero a Pesaro ebbene il sindaco ha detto no questi rimarranno a Fano e in più ci saranno altri 50 posti o almeno tenteremo di ottenerli così ha detto Sir Filippi un'altra notizia importante che ha un po' caratterizzato tutta la giornata di ieri è quella della conferenza stampa che si è fatta sulla banchina del Porto in merito alla conclusione dei lavori del prelevamento del relito che era fondato nella Darsena Peschereccia era il Nettuno, è il Nettuno ora vanno recuperati i soldi è un'operazione complessa che è costata non poco alle casse del Comune 85.000 euro avrebbe dovuto provvedervi l'armatore del relito ma l'armatore è stato un ciel di bosco insomma non ha mai risposto alle sollecitazioni del Comune ed ora i giornali pubblicano il nome di questo armatore si chiama Alessandro Gala ed è titolare dell'Alessandro Nautica un'impresa di servizi e mediazione marittima di San Benedetto del Tronto in questi 11 mesi non ha mai risposto né all'invito della Capitaneria di Porto né tantomeno a quello del Comune di Fano che lo ha sollecitato hanno emesso anche delle ordinanze perché intervenisse a prelevare quel relito che costituiva un pericolo alla navigazione dei pescherecci all'interno appunto della Darsena Portuale ora si passa al contrattacco l'amministrazione comunale intende rivalersi sull'armatore per recuperare i soldi spesi i soldi spesi verranno recuperati ha dichiarato il sindaco Ser Filippi con un'azione legale perché siamo dovuti intervenire noi altrimenti il Nettuno sarebbe rimasto lì dato che l'armatore non ha mai risposto agli inviti né ai nostri né a quelli dell'amministrazione precedente ha detto Ser Filippi intanto si è aperta la fase di indagine sul relitto bisogna anche sapere appurare che cosa ha provocato l'affondamento del natante e ci sarà una perizia che tira in ballo anche l'assicurazione ma soprattutto il fatto che il Nettuno era agli ormeggi in attesa di trasferimento in un altro porto insomma si vuole sapere se è stato un fatto accidentale oppure un fatto provocato che ne ha provocato appunto l'affondamento e tutto da ancora stabilire allora giriamo la pagina vediamo la conferenza stampa che si è svolta ieri nella sede di Aset dove il presidente Paolo Reginelli giunto alla fine del suo mandato ha fatto un consultivo di tutto quello che è stato realizzato in sette anni sette anni decisivi per la sorte dell'azienda l'azienda è cresciuta alquanto si è sviluppato sia in quantità che in qualità in quantità per quanto riguarda la gestione dei servizi che il comune ha sempre più attribuito alla sua azienda in qualità per il modo con cui l'azienda ha prestato ha risposto alle esigenze dei fanesi Aset cambia, esce Reginelli ed entra Giacomo Mattioli il presidente chiude un mandato di sette anni patrimonio più che raddoppiato ha dichiarato ma servono alleanze per mantenere i servizi e basta i vincoli ebbene delle frecciatine Reginelli ieri durante la conferenza stampa le ha date ebbene l'Aset è sottoposta a troppi vincoli ci sono delle norme che dovrebbero non gravare su un'azienda che nonostante tutto è un'azienda che deve essere agile perché opera tra poco opererà nel mercato privato ci sono ora le gare che aspettano un'azienda l'Aset è troppo piccola per partecipare a queste grandi bandi che saranno di carattere europeo quindi avrà bisogno di cercarsi degli alleati molto forti che potranno così collaborare per continuare a gestire il nostro territorio le alleanze sono indispensabili per stare sul mercato e per partecipare alle gare in particolare quelle del gas, dell'acqua in scadenza il 31 dicembre del 2028 e quella dell'igiene ambientale quella dei rifiuti che è in scadenza il 31 dicembre del 2030 quindi sono date sì sono ancora un pochino a di là da venire ma non sono molto lontane arriveranno tra breve ebbene la dimensione di Aset si è già dimostrata un limite dal momento che non è stato possibile accedere ai finanziamenti del PNRR pensate che entità a noi vicine hanno potuto usufruire di 27 milioni a fondo perduto perché avevano una dimensione tale da poter concorrere a questi bandi e quindi Aset è rimasta all'angolo e poi ci sono tanti altri dati che ha detto ha reso pubblico più pubblici il presidente dell'Aset per quanto riguarda il buon stato finanziario dell'azienda vi invito a leggere i giornali vediamo una iniziativa un'iniziativa che viene organizzata dall'AMPI la quale ricorda a Fano Libera 80 anni fa l'AMPI ricorda e racconta Alba Rossa il ciclo di iniziative organizzate dall'AMPI Fano e dall'AMPI Provinciale incomincia venerdì 26 luglio alle ore 20 nel parco del Fagiano di Fenile dove ci saranno prima i saluti istituzionali ci sarà il presidente della provincia Paolini la storica Anna Paola Moretti il regista teatrale Marco Florio la docente dell'istituto Polo 3 Giulia Gioacchini che metteranno in scena un recital con i contributi di Diziana Gasparini in voce Andrea Vincenzetti alla chitarra sarà uno spettacolo che introdurrà tutta la serie ed iniziative che Alba Rossa questa manifestazione organizzata dall'AMPI che ricorda i valori soprattutto della liberazione della resistenza appunto proporrà al pubblico fanese e non a caso qui vediamo la foto di due personaggi emblematici vediamo Winston Churchill che era a Montemaggiore ed era un giorno in cui non si è mai più avvicinato così al fronte della guerra al fronte nemico e poi vediamo Giannetto Dini che ha sacrificato la sua vita per la libertà passiamo ora all'entroterra passiamo a San Costanzo dove emergono ancora critiche per quanto riguarda la rinuncia al centro sociale di Solfanuccio uniti per San Costanzo la lista civica contesta lo stralcio della struttura dal piano delle opere pubbliche i soldi c'erano gli esponenti dell'opposizione Milena Volpe Omar Ciani e Lorenzo Gambioli attaccano eliminare dal programma triennale un'opera così importante è una decisione politica sbagliata hanno dichiarato nessuna pista polivalente nel nostro territorio comunale ha a disposizione una struttura limitrofa che permetta ai ragazzi di fermarsi al chiuso dopo aver giocato nella superficie esterna e dunque si sarebbe realizzato un servizio veramente unico se questo centro sociale fosse stato realizzato salviamo la tranquillità di Marotta invece un appello del capogruppo dell'opposizione Antea Bonaccorsi Bonaccorsi propone una interrogazione in consiglio comunale che fa riferimento a due episodi che si sono verificati recentemente era un episodio di Torrette quello avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 luglio quando un 42enne ha aggredito selvaggiamente un uomo di 54 anni facendolo finire in rianimazione e poi c'è un altro episodio che è accaduto a Marotta un doppio accoltellamento verificato tra il 10 e l'11 luglio quando un 18enne ha ferito in modo grave con un'arma da taglio con un coltello due ragazzi poco più che ventenni di Senigaglia che sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Ancona ebbene tutto questo fa sì che Marotta comincia insomma anche il circondario insomma il territorio comincia ad avere una rilevanza pericolosa ed ecco che Bonacor si chiede di intervenire di far sì che si ripristino la pace si ripristino la tranquillità perché il territorio vive di turismo e quindi ha bisogno di un'immagine più pacifica un'immagine più tranquilla che possa accattivare che possa così accontentare i turisti giriamo la pagina siamo ad Urbino parliamo di una manifestazione di jazz il jazz un po' impera dappertutto abbiamo a Fano l'abbiamo Urbino a Urbino poi abbiamo una partecipazione importante che è quella di Raffaele Gualazzi che terrà un concerto nella sua città natale ebbene Urbino Play Jazz sarà una manifestazione ricca di sorprese per la varietà del programma tre giorni dal 2 al 4 agosto più una data extra il 26 luglio che si terrà a Sant'Angelo in Vado per la rassegna che quest'anno non avrà biglietti di ingresso e si snoderà tra la piazzetta delle Erbe piazza del Duca Federico e piazza della Repubblica dalle 18 e 15 fino a luna di notte quindi una bella così una bella serie di musica jazz per tutti coloro che sono appassionati e poi un articolo una notizia di stagione proprio in questi giorni impera la siccità non serve la diga Sinistra per Urbino sostiene che l'emergenza idrica si risolve con la manutenzione degli impianti e piccoli interventi non servono grandi opere dice Sinistra per Urbino ma intanto il nostro territorio soffre e se non si può disporre di serbatoi d'acqua che possono essere utilizzati all'occasione la situazione diventa sempre più problematica prima di passare al Corriere Adriatico passiamo anche qualche notizia di Pesaro dove vediamo un triste commiato quello causato dalla morte di Riccardo Valentini un giovane papà che avrebbe festeggiato il suo compleanno una candelina auguri babbo è quello che fa il suo piccolo figliolo Riccardo vive nel ricordo del piccolo Nico e degli Angels si tratta di Riccardo Valentini che è deceduto per un improvviso attacco cardiaco la struggente serata si è così organizzata a Villa San Martino nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni il giovane padre e il soffio del bimbo sulla torta è stato veramente un momento molto molto commovente i genitori hanno voluto una festa condivisa e a questa festa hanno partecipato tutti i suoi compagni che facevano parte della squadra a cui partecipava anche Riccardo il 31 agosto si organizzerà un memorial alla Baia con i compagni e avversari che poi arrivano da tutta Italia era veramente un appassionato di football americano una passione condivisa da tante persone che arriveranno proprio per ricordarlo e per rendergli omaggio osservatorio Valerio l'abbiamo parlato nei giorni scorsi di questa grande struttura storica che è importante per le previsioni meteorologiche che sono nel nostro territorio ebbene si tratta di recuperarla perché era un po' in degrado lavori iniziati nel 2022 ma è un cantiere fantasma purtroppo ci sono porte sbarrate l'immobile cade a pezzi il rischio per i documenti storici ebbene ne parla ne parla l'assessore Riccardo Pozzi che annuncia appunto i lavori di recupero pacchi di foglie e documenti lasciati all'interno ci sono i soldi manca il resto però insomma quando ci sono i soldi già è un pezzo avanti poi abbiamo un articolo che riguarda il porto di Pesaro il cortocircuito l'autorità non riconosce gli atti della capitaneria il sindaco Biancani interviene in questo caso e dice che gli edifici di attività che hanno fatto i lavori di ampliamento o modifiche risultano così abusivi ma è un fatto burocratico non è un fatto reale il caso del club nautico chiuso da mesi ed ora passiamo al corriere adriatico vediamo l'apertura sulla pagina di Fano è dedicata alla conferenza stampa che ha convocato ieri il presidente di ASET Reginelli che tra poco il presidente ha convocato l'assemblea dei soci perché lì ci sarà tutto il resoconto l'altra sera ha relazionato anche nel consiglio comunale ci sarà tutto il resoconto dell'attività e poi ci sarà anche l'elezione del nuovo presidente Reginelli orgoglioso dei suoi sette anni e poi vediamo la seconda apertura riguarda l'operazione straordinaria per il sollevamento del peschereccio Nettuno ora alloggiato nello scalo di Allaggio è stato trasportato da fianco della banchina fino allo scalo d'Allaggio e lo vediamo questa imbarcazione incrostata di alghe di molluschi sembra veramente un relitto di un libro di avventure di pirati così come sembra l'immaginario collettivo ma in realtà in realtà è un peschereccio reale che è stato un po' il centro di un'indagine che ancora deve essere conclusa ma parliamo anche del consiglio comunale dell'altro giorno in questo consiglio comunale si sono e si sono riapprovate le commissioni consigliari le commissioni consigliari sono quelle commissioni che preventivamente esaminano le delibere le approfondiscono le studiano e poi rilasciano un parere che viene così reso noto anche in sede di consiglio comunale quando poi le delibere vengono approvate effettivamente ebbene sono state riconfermate le commissioni della precedente tornata amministrativa e sono la prima che si occupa di affari istituzionali la seconda di urbanistica e attività economiche la terza di servizi sociali e qui c'è stato un piccolo inghippo c'è stato un emendamento da parte del sindaco del sindaco Ser Filippi la denominazione di questa commissione era welfare di comunità ebbene il sindaco invece ha detto no non mettiamo via questi inglesismi e la chiamiamo commissione servizi sociali ebbene ha obiettato a questa decisione l'assessore il precedente assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti il quale ha detto che chiamarla così servizi sociali è limitativo perché questa commissione si occupa anche di altro per esempio si occupa di servizi educativi però insomma alla fine è passato l'emendamento del sindaco poi abbiamo la quarta commissione di servizi finanziari la quinta lavori pubblici la sesta la sesta commissione cultura e turismo e poi è stata approvata anche la commissione garanzia e controllo la cui presidenza spetta alla minoranza e a questo proposito ci sono stati due concorrenti due espressioni che sono usciti dai banchi della minoranza una è stata quella di samuele mascarin che è stato proposto dal partito democratico e della lista fanno cresce l'altro invece era francesco panaroni del movimento 5 stelle che è stato proposto anche dalla lista civica vediamo un attimo dalla lista civica la lista fanno che vogliamo che è costituita appunto dai due marchigiani da Lorenzo e Stefano marchigiani ma alla fine per 4 a 3 ha prevalso mascarin e qui c'è stato un po' le rimostranze di panaroni il quale ha detto insieme a marchigiani che noi abbiamo votato la Cucchiarini come vicepresidente del consiglio comunale insieme anche al PD ci aspettavamo che il PD ci restituisse la cortesia in realtà questo non è avvenuto ed è uscito una parola un po' anche piuttosto forte l'alterigia dell'altra parte dell'opposizione e nella stessa seduta ci sono eletti capogruppo consigliare ve li dico rapidamente per Fano cambia passo Luigi Scopelliti per la Lega Mario Alberto Rinaldi per il PD Cristian Fanesi per in Comune Samuele mascarin per i 5 Stelle Francesco Panaroni per Forza Italia Fiammetta Rinaldi per i civici Fano Cristian Forti per Fratelli d'Italia Bosè Gaillardi per la Fano che vogliamo Stefano Martigiani per Fano cresce Ippolita Bonci del Bene e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani grazie per l'ascolto e a risentirci a risentirci